10 comportamenti da tenere in bicicletta 1. Regolare la velocità in modo da avere sempre il controllo del veicolo 2. Segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta e di fermata che si intende effettuare 3. In caso di chiamata, accostare e fermarsi per rispondere al telefono 4. Procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e comunque mai affiancati in numero superiore a 2 5. Attraversare tenendo la bicicletta a mano in caso di traffico particolarmente intenso 6. Condurre la bicicletta a mano in caso di intralcio o pericolo per i pedoni 7. Prestare la massima attenzione in presenza di binari tramviari Qualora ci si debba spostare in prossimità di quest'ultimi, occorre attraversarli trasversalmente evitando di infilare le ruote all'interno 8. Transitare sulle piste ciclabili e bike lane quando esistono 9. In assenza di pista ciclabile, percorrere la carreggiata restando il più possibile vicino al margine destro 10. Utilizzare, se presente, la casa avanzata La casa avanzata è un'area riservata esclusivamente alle biciclette e ai monopattini la cui linea di arresto è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare In questo modo, allo scattare del verde, le biciclette possono partire prima degli altri veicoli Sono ben visibili e i ciclisti non devono respirare i gas di scarico dei veicoli accodati Noi! Noi!